Quello che ho in tasca non è uno smartphone ma è un vero e proprio pc in formato smartphone. Ma quanto è bello! Prendiamo un mini pc pensato per uso ufficio o navigazione, ficchiamoci dentro un display da 5.5 pollici diagonale, touch, abbastanza reattivo, è una batteria da ottima capacità e otteniamo questo dispositivo, questo accrocchio a cui io non so dare un nome. Voi come lo chiamereste? Sostanzialmente lui non è altro che un mini pc collegabile ad un display esterno e mouse e tastiera tradizionali, ma utilizzabile anche senza fili grazie alla batteria integrata, ricaricabile comodamente anche con una semplice power bank. Una ottima dotazione di porte, abbiamo due HDMI, due USB, Ethernet USB Type-C, altre due USB A, sono tutte porte USB 3.0, una porta per micro SD e il jack per cuffio microfono. Oltre a connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 integrate. Ovviamente non aspettatevi prestazioni esagerate, infatti al suo interno troviamo un modesto processore Intel Celeron a 2.7 GHz, che comunque riesce a gestire in modo fluido tutte le principali applicazioni basilari del sistema operativo Windows 11 Pro, che qui è preinstallato. E anche la velocità di avvio è tutto sommato veloce e adeguata al tipo di dispositivo che abbiamo in mano. Pensato, come detto all'inizio video, per essere sfruttato con tutti quei programmi per l'ufficio, come ad esempio Word o Excel. Ora, io uso OpenOffice, ma fate finta che siano loro. E l'avrete notata, c'è anche una bella tastiera touch. Ora, sono su YouTube. Il touch funziona molto bene. Il dispositivo è dotato anche di un paio di speaker integrati non potentissimi, ma ci sono. Il display è il punto principale, il punto di forza di questo dispositivo e ha un ottimo angolo di visuale. Anche questo ovviamente non è un'unità stratosferica, si tratta infatti di un display da 5.5 pollici touch in risoluzione HD. 1280x720 pixel. E c'è anche il giroscopio. Ora, il dispositivo è sostanzialmente questo. Di sicuro non potete usarlo per giocare. Non è una macchina da gaming, assolutamente. Non riscalda quasi per nulla. Il display ha una luminosità davvero ottima. Io lo stavo utilizzando a metà per non accecare la mia telecamera. Quindi si vede molto bene anche alla luce del sole. Detto questo, prodotto inutile, utile, una figata? Beh, tutto dipende da quello che volete farci. Il suo punto di forza, nemmeno a dirlo, è avere Windows 11 Pro, per quanto non nella sua veste più potente in assoluto, comodamente in tasca. È grande? Meno di uno smartphone moderno. Senza doverci portare quindi dietro un laptop o un portatile, anche di piccole dimensioni, avere questo dispositivo con tutta la sua interfaccia di porte USB, Ethernet, Wi-Fi e tutto il resto, ci permette di lavorare. In mobilità, magari anche interfacciarci ad altri dispositivi che sono Windows non compatibili, quindi con gli smartphone, e può essere quindi molto utile per una nicchia di utenti. Secondo me non è niente male. Di sicuro è un, non voglio dire accrocchio, perché comunque funziona bene, io lo sto provando da qualche giorno, ed è piacevole da utilizzare. Certo, non ha la reattività di uno smartphone, però potevano essere degli accorgimenti migliori, poteva esserci un display leggermente più grande, magari uno stand qui dietro per poterlo appoggiare in questo modo, anche se lui rimane così, in quanto è un rettangolo di alluminio, i materiali sono anche discreti. Come sentite, anzi non sentite, non è assolutamente rumoroso, in quanto è un sistema fanless. E la batteria integrata da 2500 mAh, indicata per 5 ore di utilizzo, permette di utilizzarlo con display attivo per 3-4 ore, senza problemi. Sapete cosa mi ricorda? Mi ricorda un po' i vecchi palmari che si utilizzavano prima degli smartphone, quindi roba per vecchi come me, magari più giovani del canale, non li conosceranno. Comunque erano dei dispositivi precursori degli smartphone, con solitamente una versione di Windows preinstallata su di loro. Ecco, mi ricorda tantissimo quei prodotti. Ecco, anche avere un pennino magari sarebbe stato molto utile, in quanto il display non è grandissimo, e tappare le giuste icone potrebbe essere un po' scomodo. Ma detto questo, è un prodotto sicuramente originale che volevo portarvi qui sul canale. E ora vi dico anche quanto costa, perché lui è disponibile in due varianti. Da 128 giga di storage, questa che sto utilizzando, o da 256 gigabyte. Il prezzo non è che cambia poi più di tanto e oscilla tra i 200 e i 300 euro. E se vi interessa, da dove è possibile acquistarlo? Beh, ovviamente tramite il mio canale Telegram ufficiale TechBestDeal, se lo trovate linkato qui sotto in descrizione ai video, entrateci e cercate. E i Gaola PCM1, nome non dei più semplici, comunque vi lascio una delle mie inserzioni che ho pubblicato su Telegram per vostra comodità. Quindi entrate su Telegram, cercate e se volete acquistatelo, se vi interessa. Detto questo, però ora voglio conoscere la vostra opinione su un prodotto di questo genere. Lo trovate una bella idea? Interessante? Lo acquistereste? Trovate che sia una stupidata? Beh, parliamo insieme qui sotto nei commenti. E se questo video è stato di vostro interesse, beh, potete supportarmi molto semplicemente con un like, una condivisione e iscrivendovi a questo canale che conta già quasi 106.000 iscritti. Grazie a tutti. Detto questo, amici, vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video, sempre quello che vogliate, sempre qui su Addictest2Tech. Alla prossima! Ciao belli! Ciao belli!